Ciao bambine, eccoci di nuovo con la nostra gattina bianca piccolina piccolina e molto molto vanitosa vediamo un po' che cosa vuole fare oggi oh vuole giocare, ecco qua un bel gomitolo di lana azzurra lo rincorre, oh divertente vero giocare con i gomitoli e adesso chissà che cosa vorrà fare, i gattini piccoli hanno sempre tantissima voglia di giocare allora, 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 ho un vaso di fiori di solito i gattini con i fiori vanno proprio a nozze, il mio me li ha mangiati tutti e infatti anche lei già starnutito sopra e non c'è più neanche un petalo e adesso abbiamo un bicchiere ma che cosa fai? oh no, si è incostrato il musino nel bicchiere, povera brava, ti sei aiutata con le zampine e sei riuscita a toglierlo bravissima, dai giochiamo ancora un po' insieme di nuovo col gomitolo? ma si dai, eccolo che arriva giochiamo con il gomitolo, com'è divertente il gomitolo è sparito oh oh oh, adesso con cosa vuoi giocare? gattina giocherellone vanitosa dimmi un po' oh ma che carino, vediamo se riesce a prenderlo dai 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 brava che divertente questi giochi per i gattini ti stai divertendo? oh tanti bacini ho questa gattina bianca tutta morbidosa come sei morbida e carina e adesso che cosa vuoi fare? ti metti le zampine? un po' di musica yeah ma la nostra gattina è una ballerina provetta guardatela come si scatena insomma gioca, balla, distrugge i fiori e adesso abbiamo una paperella elettronica dai, colpicila e falla muovere e anche la paperella è andata a farsi un giretto che altri giochini abbiamo? vediamo un po' potremmo giocare di nuovo con la musica vuoi ballare? dai, balliamo un altro po' balliamo anche noi, vero bambine? oh e uno, due, tre, quattro cinque, sei, sette, otte uno, due, tre, quattro e brava! ci siamo proprio scatenate con la musica e adesso gattina giocherellone che cosa facciamo? che cos'è questo? la paperella è tornata la paperella diamole un colpetto e facciamola girare ecco qua che divertenti questi giochini per i gatti adesso che cosa hai in mente? che cosa ti va di fare? fai le capriole sei contenta? ti sei divertita? mi fa molto piacere eccoci qua nella stanza della nostra gattina ha bisogno di fare un po' di nanna guardate che bella cuccia che ha sembra proprio una principessa mmm quel bel cuscinone morbido con le frappe con i fiocchi ahhh e ha anche un peluccio a forma di coniglietto diamo un bacino a questo peluccio e facciamo le minne insieme abbiamo bisogno di riposarci? abbiamo giocato tanto vero micetta? mmm hai ancora un po' sonno? che cosa ti manca? ah volevi la copertina e certo con la copertina si dorme molto meglio mi piace proprio questo lettino e che visto ha le tendine e poi ha questo cuscinoforma di cuore con tutte le frappette il ciuccio ma che è così piccina da volere il ciuccio? va bene dai glielo concediamo vero bambine un piccolo ciuccetto per la nostra gattina non lo vuoi più? e adesso che cos'altro ti serve per fare le nanne tranquillamente? dimmi un po' ah vuoi la sveglia vuoi essere sicura di svegliarti in tempo per tornare a giocare va bene oh oh eh la sveglia è fastidiosa eh ti ho fatto saltare cazzi picchia queste sveglie io proprio non le sopporto mi sveglio male 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 dai mettiamo un po' di musica rilassante una bella ninna nanna per fare tanti sogni tranquilli ma adesso ti sei svegliata di nuovo insomma non riesci proprio a riposare per bene tieni il tuo coniglietto dagli un bel bacino e fate un po' di nanna insieme com'è carina non mi viene voglia di coccolarla con la micetta io sì vorrei proprio entrare in quella stanzetta e farle tante coccole e tanti grattini oh adesso è proprio bella riposata abbiamo fatto tante nanne e adesso una gara di corsa oh una gara d'ostacoli ma che cosa stai facendo? hai rallentato hai cambiato corsi ma cosa fai? vuoi mangiare tutti i pesciolini ma sei proprio in gorda fai salta il fungetto salta la siepe un'altra siepe un altro fungetto ecco la nostra gattina in prima posizione e cambia corsia vuoi prenderti tutti i pesciolini lei brava 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 dai che ci siamo quasi dai che ci siamo quasi ancora un ostacolo eccola che arriva al via vincitrice bravissima gattina ti ha fatto proprio bene la nanna noi ragazzi vi calutiamo io vado a fare un po' di coccole a questa bella gattina ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao